Per quanto riguarda la transizione ecologica, io sono convinto che sia il Covid che la guerra in Ucraina abbiano messo in evidenza quanto la transizione ecologica in Europa sia velleitaria. L'Europa emette l'8% di CO2 mondiale, che al netto della Germania sono solo il 4,9%, quindi sostanzialmente irrisorio, ricordo che la Cina emette più del 30% in fortissima crescita per il fortissimo utilizzo di carbone e di produzioni di energia in maniera assolutamente non consona e quindi l'Europa si sta spingendo verso territori estremamente costosi, estremamente penalizzanti a livello sociale semplicemente per una questione, tra virgolette, morale. Non credo che questo vada a beneficio dei cittadini, credo che sostanzialmente uno Stato serio, uno Stato che voglia supportare il proprio stessuto industriale, debba avere sostanzialmente un mix energetico molto vario sia in termini di fonti energetiche, sia in termini di provenienza delle fonti stesse. Quindi io credo che l'Italia debba andare assolutamente in questa direzione. Beh, assolutamente la più grande fake news riguardo alle vetture elettriche sono le emissioni zero. L'auto elettrica non ha assolutamente emissioni zero per due motivi fondamentali. La costruzione della batteria è assolutamente energy consuming, nel senso che per produrre una batteria serve moltissima energia e se questa non è prodotta con le rinnovabili assolutamente emette più CO2 di quanto emette un motore termico. Si dice che un'auto elettrica nuova messa sulla strada abbia già prodotto CO2 pari a 100.000 km di un'auto e una vettura normale. L'altra ovviamente fake news riguardo alle zero emission è il fatto che sostanzialmente l'energia che serve per ricaricare le auto elettriche in piccolissima parte, in Italia circa il 37% è prodotta da rinnovabili e quindi sostanzialmente si continua a produrre CO2 quanto forse più di prima. L'altra fake news riguardo alle auto elettriche è il costo. Le auto elettriche non sono un costo solo diretto, nel senso un costo di produzione dell'auto, vendita dell'auto, ma le infrastrutture necessarie per poi ricaricare le vetture sono enormemente costose. Sono costose e ovviamente in questo momento sono fatte con fortissimi contributi dello Stato, quindi a debito dei cittadini, col famoso PNR e tutto il resto.